Questi studi e queste evidenze del fatto che ci sono maggiori diagnosi di neoplasie anche nei giovani sono legate da una parte a una maggiore attenzione anche diagnostica per individuare queste forme, ma anche al fatto che gli stili di vita non corretti sono responsabili di queste forme di tumori. Quattro principali fattori di rischio che sono la sedentarietà e quindi lo scarso movimento e la scarsa attività fisica sono responsabili principalmente di queste patologie, ma anche la cattiva alimentazione, l'alcol e il fumo. Consiglio a ogni cittadino di aderire agli screening perché sono veramente salvavita, ci permettono di individuare per tempo la presenza di una eventuale neoplasia e quindi di contrastarla con le misure efficaci in modo da non avere poi un alto tasso di malattie gravi e purtroppo anche di mortalità. Intanto consiglio a ogni cittadino di cominciare a avere più rispetto della propria salute e della propria persona concedendosi la possibilità di fare movimento anche semplicemente con delle passeggiate, di fare molta attenzione a quella che è la propria alimentazione perché da questo ne viene fuori salute ed eliminare invece quelle abitudini nocive che sono l'abuso di alcol e il fumo. Grazie. 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 Grazie.